Stefania Pezzopane entra a sorpresa nella casa del GF? L'anniversario in cui ha festeggiato i quattro anni d'amore con Simone a distanza le ha fatto cambiare idea Vuole esserci per coccia con la Iuta, il compagno così diverso da lei che ha scelto di avere accanto nella sua vita Il suo discorso emoziona e commuove.È da sempre stata molto attaccata per il rapporto con l'ex fogliarellista, per questo Stefania Pezzopane entra nella casa da Simone, Barbara D'Urso è felice che abbia deciso di farlo e sottolinea che quando si parla d'amore è tutto possibile Il discorso della politica al GF è profondo e piace. Immediatamente diventa virale in rete, sono tutti innamorati di lei Video Stefania Pezzopane entra nella casa da Simone, il GF impone il Freze, coccia cui la Iuta deve stare immobile e ascoltare il discorso dell'onorevole Le lacrime, inevitabili, gli bagnano il volto. A parlare è quella che lui definisce l'amore della sua vita Ciao Simone! Ormai è un mese che non ci vediamo, non ci sentiamo. Io ho seguito tutto e sono sempre con il batticuore perché il tuo ingresso nella casa, ha scatenato tante cose Molte cattiverie, cadute di stile, stupidaggini, bugie, menzogne. Tutto addosso a Simone Ma Simone non è quello che raccontano alcuni. Simone è quello della casa. Simone è quello che scrive il cartello Perché Simone fa così, fa delle cose semplici, ma molto belle? Magari tutti si aspettavano che io mi fidanzassi con uno come me, invece ho scelto uno diverso da me, ma non per questo è un amore che non merita l'attenzione e il rispetto Io continuo ad amarti, dice Stefania Pezzopane. Il discorso fa commuovere anche Alberto Mezzetti, che, chiuso in un'altra stanza della casa del GF, ascolta attento Stefania Pezzopane. Stefania Pezzopane nella casa, rivolgendosi a Simone, lancia pure una frecciatina a Luigi Mario Favoloso, che ha ironizzato poco elegantemente sulla sua altezza Qualcuno ha detto che assomigliò a quel polf, ma quel polf non ha la testa, io ce l'ho Qualcuno se la prende con chi è più piccolo, ma io guido la sfida delle piccolette La sfida a dire che chi è diverso è bello o uguale, sottolinea, punto virgolette Simone, da quando sei entrato qui, tutti si sono scatenati E c'è tanta gente che ti vuole bene, ma io continuo ad amarti, tua mamma e il tuo figlio Loris continuano ad adorarti Ti aspetto non ti far provocare, io ti amo tanto e so che mi ami tanto, conclude Stefania Pezzopane Il GF finalmente sblocca Simone. Coccia con l'aiuta abbraccia forte la sua donna, i due si baciano, e non vorrebbero separarsi più . . . . .